Ciao a tutti ragazzi, in questo video io vi racconterò di come funziona la vita in ostello, quindi come sono le stanze, com'è la cucina, dove si può mettere il cibo che si compra, le sale comuni, sala biliardo, la piscina, vi racconterò tutte queste cose, i prezzi, tutto nel link che lascio qua sotto del video completo sul mio canale YouTube, quindi andate a seguirmi anche là, perché ogni settimana parlerò di working oleadivisa Australia.